Washington è riuscita a convincere il presidente di Swift-Librant a scollegare le banche iraniane dal sistema di pagamento internazionale. Tuttavia, giuridicamente Swift è una società privata europea, registrata in Belgio, tenuta quindi a rispettare la legislazione belga ed europea. A questo punto resta da vedere chi è il padrone di casa. Se l'Europa cede sarà una sconfitta fatale, scrive il direttore di Pandora TV, Giulietto Chiesa. Se non cede, allora dovrebbe sanzionare Swift e procedere, per esempio, al sequestro dei server e degli asset della società con tutti i suoi segreti. D'altronde, le misure americane contro l'Iran non stanno sortendo gli effetti desiderati. La compagnia petrolifera nazionale cinese, CNPC, ha fatto sapere che non intende ritirarsi dai progetti avviati in Iran, mentre Mosca sarebbe diventata il principale beneficiario delle sanzioni statunitensi. Come scrive il Wall Street Journal, la Russia sfiderà le sanzioni USA acquistando il petrolio iraniano in forma di baratto per il suo mercato interno. Nel frattempo, diverse raffinerie che in Europa e in Asia trattano il greggio iraniano potrebbero decidere di sostituirlo con il petrolio russo, dalle caratteristiche simili al primo. Tanto più che dall'agosto scorso, gli Stati Uniti non possono più controllare i traffici marittimi nel Mar Caspio. L'Iran, intanto, ha fatto sapere che proteggerà le sue cisterna di fronte a qualsiasi minaccia. Non tocchiamo di una virgola quelli che sono i fondamentali della manovra. Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, a poche ore dalla risposta del Governo, alle osservazioni della Commissione europea. Un Consiglio dei Ministri è previsto alle 8 di stasera, martedì 13 novembre, preceduto da vertici a livello politico. Il deficit del 2019 dunque resterà il 2,4% del PIL, mentre il Ministro dell'Economia Giovanni Tria smentisce le voci di una possibile revisione a ribasso del tasso di crescita. Le previsioni di crescita sono il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno, dentro o fuori dal Governo, ha precisato Tria. Intanto, a Roma sono in arrivo gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, critico nei confronti delle stime sulla crescita. L'incontro con Giovanni Tria è previsto proprio per mercoledì, ovvero il giorno in cui l'esecutivo dovrà dare una risposta a Bruxelles. Il 2018 è un anno nero per i negozi. Tra gennaio e settembre di quest'anno, i negozi italiani hanno registrato quasi 900 milioni di euro di vendita in meno rispetto al 2017, la flessione peggiore da 5 anni a questa parte, scrive Confesercenti. Un crollo che ha accelerato la mortalità delle imprese. L'Associazione dei commercianti stima che nei primi nove mesi del 2018 abbiano abbassato la sarcinesca circa 20.000 negozi. Il calo delle vendite ha colpito praticamente tutti i comparti merceologici e non ha risparmiato nemmeno la grande distribuzione organizzata, dove tra gennaio e settembre le vendite sono cresciute appena dello 0,2%, in forte arretramento rispetto al più 2% segnato lo scorso anno. Le vendite stanno rallentando in maniera preoccupante in tutta Europa, ma l'Italia è quella che ha subito la frenata peggiore, commenta la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. L'auspicio, aggiunge, è che le misure annunciate per il rilancio del mercato interno e dei consumi vengano introdotte velocemente. Alibaba infrange il record di vendite online nel decennale del giorno dei single, l'11 novembre, raggiungendo il picco di 30,8 miliardi di dollari, 213,5 miliardi di yuan a fronte dei 25,3 miliardi del 2017. Un miliardo in un minuto e 25 secondi, 10 miliardi in un'ora e 48 secondi, attraverso Alipay, la modalità di pagamento della compagnia di Hangzhou. Oltre 180.000 brand a livello mondiale hanno partecipato all'iniziativa. Un altro importante dato che ci dice che non c'è tempo da perdere per preparare il pianeta ad affrontare rischi e opportunità che si presentano su una scala titanica mai vista prima. Il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Mateusz Morawiecki hanno celebrato il centenario dell'indipendenza della Polonia sfilando nel centro di Varsavia a pochi passi dai militanti dell'estrema destra. Da un lato vi erano circa 5.000 persone che partecipavano alla manifestazione governativa, dall'altro 200.000 uomini e donne con croci uncinate in bella vista, che inneggiavano all'indipendenza dall'Unione Europea bruciandone le bandiere. All'annuale marcia organizzata dal 2009 dai radicali di destra, quest'anno si sono aggiunti il corteo ufficiale del partito di governo diritto e giustizia e una marcia antifascista. Inizialmente, infatti, il sindaco uscente di Varsavia aveva vietato il corteo ultranazionalista per motivi di ordine pubblico, ma il tribunale distrettuale ha accolto il ricorso degli organizzatori, autorizzando la manifestazione. Nel frattempo, però, era già intervenuto il governo, annunciando una manifestazione ufficiale aperta a tutti i polacchi, per sostituire quella bandita dal sindaco.